Lascia qui la tua intenzione per San Giovanni Battista. Noi pregheremo affinché San Giovanni ti ascolti. Adesso una preghiera per te e le tue intenzioni. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amin.